Secondo classificato della sezione di siloce breve, Emilio Benzari con la sua silage, con un attento per la macchina. Continuare ad ammazzarci, muzzando con le cesorie, respirando le gioie e ose, a volte è giusto, ordinare i cuori e i figli, con prese di margherite, impotenti e svalitati, può essere giusto, più che giusto, far finta di non sentire gli occhi disperati nel quarto che si presenta, non vedere o non voler vedere, con un buon fine è giustissimo, e qui siamo tutti raccogli. Congratulazioni per il risultato, adesso procediamo alla premiazione, con una motivazione letta sempre da Giuseppe Bacchino. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.